Sì, io penso che debba essere la RAI a dare al pubblico della TV generalista, che è quello più ampio per definizione, la possibilità di processare i contenuti della politica, di conoscere questi eventi perché il pubblico maggiore sta lì. Il fatto è che tra le varie strategie dei singoli, perché la responsabilità non è soltanto della RAI che non ha saputo prendersi le primarie e il confronto, è anche dei singoli che chi per una ragione, chi per un'altra hanno fatto sì che poi si finisse su Sky, cioè è un po' il sistema che non funziona bene. Però ecco, io devo, così, dati al rispettatore, mi aspetterei che la RAI, la TV pubblica, posto che io sono la TV generalista, per come la vedo io, dovrebbe finire domani mattina, io sono un fautore assoluto della TV tematica, tematizzerei qualunque cosa. Detto questo, siccome non siamo ancora a questo livello, la RAI deve fare il servizio pubblico, per tornare all'hashtag di prima, cioè deve fare il mestiere suo, assolutamente, anche se le primarie sono opinabili per tanti motivi, ma è la RAI che deve dare al telespettatore, è la RAI che deve avere il potere di dire a questi signori, guardate che il confronto si fa da noi, si fa con queste regole, le regole deve dettarle chi fa televisione, non chi va in televisione, noi spesso abbiamo questo problema.